buongiorno a tutti il nostro ospite di oggi a roberto camurri che presenta il suo nuovo romanzo qualcosa nella nebbia eccolo qua spettacolare romanzo che è il terzo forse di un triptico dedicato più che alle persone a un paese particolare ha esordito con la misura d'uomo un libro che ha avuto un grande successo il nome della madre è stato il secondo e adesso c'è questo c'è questo qualcosa nella nebbia ci sono dei protagonisti umani e c'è un protagonista fisico il paese di fabbrico chi prevale fra le due cose ciao a tutti innanzitutto grazie per avermi invitato e allora io quando volevo scrivere quando ho iniziato a scrivere questo libro volevo scrivere una storia che parlasse di libertà e quindi fondamentalmente avevo bisogno di rendere fabbrico un luogo in cui potesse succedere qualsiasi tipo qualsiasi cosa e poi soprattutto volevo rendermi libero di poter raccontare qualsiasi tipo di storia mi passasse per il cervello fondamentalmente no e quindi da qui la trasformazione di fabbrico in qualcosa di irreale e e alla fine mi sono reso conto che i personaggi umani e fabbrico la natura il luogo in cui si svolgono i miei romanzi hanno più o meno la stessa importanza nel senso che fondamentalmente mi piace racchiudere le mie storie in un posto piccolino perché il mondo là fuori è troppo complicato ecco i personaggi umani sono uno scrittore che deve ribadire il suo successo e se ne va invitato a un festival letterario quindi un'uscita Alice che invece è una noto personaggio televisivo grottesco definisci la sua carriera perché che invece torna e trova due amici amicizia amore ritorno fuga sono questi gli elementi fondanti allora sì e nel senso che fondamentalmente io credo che ci sia un po in ognuno di noi forse un altro tipo di oscillazione no fra sentirsi in qualche modo rassicurati dalle proprie radici e contemporaneamente la voglia di disfarsene no ed è un tema che un po ritorna in tutti i miei interlibri in tutti i miei interlibri c'è un personaggio che se ne va e poi ritorna credo che mi interessi raccontare quel tipo di rapporti che diventano così tanto intimi che trascendono le parole trascendono i comportamenti no e si e quindi scavare all'interno un certo tipo di intimità e potrebbe essere benissimo un rapporto di amicizia un rapporto d'amore no e che poi fondamentalmente l'amicizia è una forma di amore credo ecco sono rapporti che poi servono anche per raccontare cose brutte o belle della vita succedono anche negli atti di violenza quindi sono storie cioè fabbrica in fondo è l'emblema del mondo ci sono c'è la natura che ti aiuta che ti può calmare c'è invece situazioni che ti possono devastare sì 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 infatti a me mi piace anche pensare che possono succedere cose molto lorde molto brutte che però non rinnegano le cose belle che capitano no e c'è da attraversare questo queste difficoltà questi queste anche tragedie no per riuscire a in qualche modo liberarsi anche dai pesi che ci portiamo addosso no parliamo della scrittura è una scrittura molto non è molto intima la tua non facilissima da seguire in certi punti ma che ti diciamo che ti porta dentro nella nelle riflessioni e ti porta nell'animo del personaggio io riesco a scrivere solo così no perché mi rendo conto che nella mia scrittura c'è stata un'evoluzione nei tre libri e l'unica roba è che io apprendo per osmosi no e quindi è un percorso in cui leggo un sacco in cui mi studio anche però non riesco bene a definire ciò che ho imparato e ciò che sto usando nella mia scrittura no ma è un qualcosa che in proietto dentro di me e poi lascio che escono l'empatia con i personaggi la crei la voglia di entrare nelle loro nel loro intimità ti viene durante la lettura per come consigliamo la lettura di questo libro qualcosa nella nebbia di roberto camori ma siccome la letteratura è un antidoto contro le malattie della vita si dice ci daresti due pillole di questo antidoto sotto forma di titoli di libri dei quali consigli la lettura allora consiglierei due classici che sono la valle dell'eden di steinbeck che per me è un capolavoro assoluto e un altro capolavoro è hit di steven king e poi se posso che è corto poi il racconto che per me è il racconto perfetto che è un giorno ideale per i pesci banana di saling ottimo grazie per essere stato con noi grazie per chi ci ha seguito e alla prossima buona giornata grazie mille ciao